Malpensa24 entra di nuovo negli hub vaccinali della provincia di Varese, che sono cinque, per vedere come sta andando la campagna vaccinale, ma soprattutto quali sono le persone che stanno permettendo a questa campagna massiva di progredire e anche di accelerare con l'arrivo dei vaccini. È una macchina molto complessa, in campo ci sono, e lo vediamo anche nelle immagini realizzate nel lab di Malpensa Fiera Buster Seeds, in campo ci sono le ASST, c'è la TS e c'è anche una componente che le vediamo colorate perché ognuno ha le sue divise, i loro simboli distintivi, che è l'esercito dei volontari. Oggi qui in studio, proprio per parlare dei volontari, protagonisti fondamentali per questa campagna vaccinale, abbiamo con noi Alberto Barcaro, consigliere provinciale della protezione civile, e Simona Sangalli, presidente del Comitato della Croce Rossa di Bustarsizio-Vagliolona. Avremmo voluto invitare tutti i rappresentanti dell'associazione impegnate a Varese, a Busto, a Rancio, ad Arcisate e a Saronno, non lo possiamo fare. Idealmente però sono tutti qui e rappresentati da Alberto Barcaro, con cui inizieremo questo approfondimento, e con Simona Sangalli, perché sono le due associazioni che si passano un po' la staffetta e il testimone nella catena che permette ai centri vaccinali di funzionare. Partiamo con Alberto Barcaro. Consigliere, quanti volontari mettete in campo quotidianamente e dove state operando? Perché i numeri aiutano a capire lo sforzo di queste persone. Sì, grazie Andrea, grazie Malpensa24 per l'invito. Ma giornalmente siamo all'incirca presenti nei vari hub vaccinali, e non solo, perché abbiamo ancora il centro tamponi e le fontanelle, presenti con circa 130 volontari al giorno. E diamo supporto, partendo da nord, al lab vaccinali di Rancio-Valcuvia, poi Arcisate, Varese-Schiranna, Saronno e il più grande Malpensa-Fiere. Ecco, intanto scorrono le immagini, ci sono anche dei momenti non strettamente legati alla campagna vaccinale in corso. Prima Barcaro, nell'immagine prima, l'abbiamo vista con il commissario regionale Guido Bertolaso. Qua vediamo il sopraluogo che ha fatto anche il referente nazionale della protezione civile, il dottor Curcio. La domanda che volevo farvi in questo momento è, con chi collaborate? Cioè, sia la protezione civile, ma ci sono anche altre realtà. Quali sono, Alberto Barcaro? Le ricordiamo? Ricordarle tutte è difficile, chiaramente, perché fondamentalmente stiamo dando supporto, come dicevamo, ai centri vaccinali e ci siamo raccordati principalmente con ASST 7 Laghi per una strata collaborazione per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale. Per cui gli ospedali hanno delle associazioni di volontariato che utilizzano nel corso degli anni, hanno sempre utilizzato nel corso degli anni, e dall'inizio della pandemia questa organizzazione di volontariato hanno dato supporto agli ospedali per le vaccinazioni. Non abbiamo fatto altro che fare appunto sinergia, perché l'impegno è sicuramente un impegno molto gravoso per tutto ciò che concerne la macchina organizzativa e stiamo collaborando con varie associazioni, principalmente, ripeto, quelle che collaboravano già con gli ospedali. Ecco, entriamo in una vaccinale, perché quando si arriva, siamo al Pensafiere, che è alla Schiranna, ci siamo entrati diverse volte, ci sono le vostre tute ad accogliervi, ad accogliere i cittadini che arrivano in questo momento. Ecco, quindi qual è il vostro compito in queste strutture specifiche, dove si incontrano tante storie, si incontra le emozioni, ci viene contato con le emozioni della gente, con i timori, con le paure. Quindi diciamo, voi siete un pochino il primo front office di questa campagna. Sì, emozioni e paure e anche gioia delle persone, perché in questa fascia, in questo periodo vaccinale, che appunto siamo andati a vaccinare le persone anziane, soprattutto, ci si rende conto che effettivamente sono felici di arrivare al centro vaccinale, sono felici di essere accompagnati, supportati e sono felici proprio anche dopo la vaccinazione. Per cui credo e penso che tutto il mondo del volontariato dopo questa emergenza ne uscirà sicuramente meglio, valorizzato e con un bagaglio interno, personale, sicuramente più bello. Non sono medaglie che ci si appendono al collo queste, sono medaglie che rimangono e ci porteremo dentro sicuramente nel corso degli anni. Il supporto della protezione civile è stato calibrato a seconda degli hub vaccinali, perché ogni hub vaccinale ha delle peculiarità differenti rispetto al più grande, diciamo, malpensa fire. Ma in linea di massima ci occupiamo dell'accoglienza, delle persone vengono indirizzate, si prova la temperatura, perché non possono entrare negli hub vaccinali le persone che hanno una temperatura superiore ai 37 gradi e 5. Una volta che vengono accolte, poi con un percorso che bene o male è similare in tutti gli hub vaccinali, la protezione civile si occupa appunto di indirizzare all'interno proprio del hub vaccinale le persone che devono eseguire questa vaccinazione. Abbiamo nei vari hub del volontariato che si occupa appunto di far entrare quando è il proprio turno il vaccinando nei locali adibiti e controlliamo l'uscita per poi passare il testimone alla Croce Rossa che si occupa appunto della vigilanza dell'assistito nel post vaccino. Ecco, l'hub lo possiamo definire un motore che viene messo appunto giorno per giorno, nel senso che chi l'ha visto nascere l'ha visto in un modo, chi si è vaccinato il primo giorno ha visto un altro hub, chi va in questi giorni vede di nuovo cambiato il layout, proprio perché aumentano i numeri, aumentano le linee e non mancano alcune criticità, però la risposta che si ha anche da tanta gente che è venuta è quella di una tempestività di intervento. Ecco, Barcaro, lei che ha magari una visione da un punto di vista maggiore, perché comunque gira questi hub, quali sono state le criticità che avete incontrato e come le avete risolte? Ma allora, quello che diciamo sempre a tutti, a SST, a TS oppure alle persone che si confrontano con noi è che su carta funziona sempre tutto, poi nel corso, come dicevi, delle giornate ci si rende conto che c'è qualcosa che non funziona. L'esempio più lampante è vissuto direttamente quando la pandemia era in un momento per la provincia di Varese importante, parliamo del settembre-ottobre scorso, abbiamo adibito la sede provinciale della protezione civile per l'effettuazione dei tamponi in stretta collaborazione con ATS in Subria. Su carta funzionava tutto, il primo giorno ci siamo resi conto che c'erano delle code astronomiche, per cui solo quell'hub vaccinale l'abbiamo modificato quattro volte. È vero che si entra in macchina, qua negli hub vaccinali fondamentalmente, ad oggi si utilizzano solamente a piedi. Sono stati variati, quasi tutti, rispetto al modello iniziale, sia la Schiranna, sia Rancio-Valcuvia, soprattutto Malpensa-Fiere. Oggi Malpensa-Fiere rispetto alla prima settimana ha un percorso di accesso completamente diverso, sia perché ci si è andati a migliorare con il sistema di prenotazione di posti italiane, ma anche e soprattutto perché si è deciso per non avere dei periodi morti e dei controlli ulteriori e delle code ulteriori delle persone che devono essere vaccinati, di togliere il primo ingresso, il primo step che era quello del controllo della documentazione, perché si è visto che in una maniera più ottimale si poteva svolgere questa attività direttamente nel momento della vaccinazione. Quindi nel box vaccinale. Esatto, nel box vaccinale. Ecco, passiamo il testimone come avviene nel lab di Malpensa-Fiere, che l'abbiamo preso un po' come modello, ma anche gli altri hanno delle organizzazioni piuttosto simili. E arriviamo a Simona Sangalli, Presidente della Croce Rossa di Bustarsizio, che praticamente nel centro sono gli angeli dell'emergenza, delle situazioni più complesse. Anche a Simona Sangalli chiediamo quanti volontari avete in campo sull'ab vaccinale di Malpensa-Fiere. Allora, anche noi raccogliamo il testimone della protezione civile e delle altre associazioni e abbiamo, ci siamo organizzati con 120 volontari, ovviamente anche questo è stato un percorso condiviso con le altre associazioni e in base alle criticità si è andati e si andrà ad aumentare, aumentando il flusso delle persone che verranno vaccinate, andranno aumentati anche il numero dei volontari, perché per essere più vicini alle persone e per garantire un miglior funzionamento del lab stesso. Noi operiamo su Busto, ma la Croce Rossa di Varese opera nelle località di Varese, abbiamo dato la nostra copertura alla parte emergenziale, quindi quando la persona è stata effettivamente vaccinata, noi la raccogliamo e stiamo con loro per l'assistenza dei tempi di attesa dei 15 minuti, affinché non ci siano delle problematiche sanitarie, abbiamo allestito in accordo con la SST un'infermeria, un'emergenza, quindi se dovessero esserci situazioni più grave siamo pronti e quindi questo è il nostro compito all'interno. Chiaramente, come diceva prima il collega, è stata un'app che l'abbiamo vista nascere e l'abbiamo un po' costruita, quindi sulla carta effettivamente c'è la pianificazione, che è la pianificazione regionale, che è la pianificazione di tutti gli hub, ma la differenza mi permetto di dire che la fanno i volontari. I volontari perché sono la risorsa umana, che sono coloro che sono vicini alle persone, che possono comunque allevare anche i tempi di attesa e quindi cercano di portare a completamento quello che è la loro missione, che è il loro spirito di tutti i volontari, quindi aiutare e alleviare le sofferenze sia psicologiche che umane. Certo, c'è tantissima umanità in questo percorso che possiamo definire, un percorso che ci sta portando fuori da questo anno veramente complicato, tragico e difficile. E non bisogna dimenticarsi, parlando di Croce Rossa, che non ci sono solo gli hub vaccinali, perché comunque c'è anche tutta un'attività quotidiana, se si pensa che ci sono più di 100 volontari impegnati sul hub, ma poi ci sono anche quelli che stanno nella sede pronti a uscire nell'emergenza quotidiana. Come fate a organizzare una macchina di questo tipo, anche perché da questo punto di vista è un anno che siete sotto stress? Sì, noi siamo un po' organizzati, un po' come militari, noi abbiamo dei turni che vengono rispettati, perché chiaramente le ambulanze non possono permettersi di non uscire, abbiamo convenzioni attivi per l'emergenza urgenza, quindi con Areo 118, effettuiamo i trasporti privati, abbiamo convenzione con multimedica, effettuiamo servizi quindi di ambulanze, trasporto sangue, ma quello che è anche importante, che ci tengo a sottolineare, è oltre che all'emergenza, quindi anche il soccorso in questa pandemia, è anche l'essersi rivolti alle persone vulnerabili, quindi ci occupiamo anche di quello che è la solidarietà, quindi non abbiamo dimenticato i senza tetto, le persone vulnerabili che sono presenti alla stazione e abbiamo, ci siamo anche dedicati ai pacchi alimentari a sostegno delle famiglie che purtroppo in questo periodo di pandemia per mille motivi non riescono ad avere neanche a disposizione i beni alimentari. Ecco, un'organizzazione complicata, facciamo un passo indietro Simona Sangalli e torniamo al primo lockdown, dove credo che la colonna sonora di queste città spente, silenziose, era quella delle sirene delle vostre Croce Rosse, ma giusto per ricordare da dove siamo partiti, perché non bisogna mai dimenticarsi, siamo ancora nel tunnel vicino, lontano dall'uscita lo vedremo, ma guardiamoci un attimo indietro, quale immagine si porta nel cuore, una bella immagine chiaramente, di quel periodo buio, questo vorrei che lei raccontasse. Siamo partiti da attimi di paura, di smarrimento, come pure all'interno degli ospedali, perché ci siamo trovati a uscire sulle ambulanze, quindi a entrare nelle case dove c'era il Covid, a soccorrere persone Covid e chiaramente anche da un punto di vista psicologico per i volontari non è stata una cosa semplice, anche quando poi ci siamo attrezzati, protezione, abbiamo continuato il nostro cammino, se chiede a qualsiasi volontario presente sulle ambulanze qual era la cosa che creava più preoccupazione, era il non poter essere presenti umanamente col viso, perché dietro una maschera, dietro la mascherina, dietro la protezione, con le tute in tieback, noi riuscivamo a creare anche una tranquillità alle persone che soccorrevamo, che erano in una situazione di difficoltà perché venivano prelevati dalle case da queste persone, con gli scafandri, esatto, con questi scafandri e anche averli in ambulanza, non c'era modo se non magari con gli occhi di far capire perché alla persona che c'eravamo, che anche umanamente, quindi questo è il ricordo che tutti i volontari e gli operatori portano nel cuore, le strade deserte, nessuna autovettura, strade sgombre e noi che un'uscita, la centrale è un'uscita dietro l'altra e poi arrivavamo negli ospedali dove ci trovavamo il personale sanitario e anche loro in difficoltà e quindi anche questa collaborazione nel cercarci di aiutare anche nella movimentazione della persona soccorsa, era un po' un fai da te, una fase umana con una fase sanitaria, quindi era un insieme che secondo me è stato grande per tutti gli operatori sanitari ma anche per le famiglie, per chi soccorrevi perché proprio anche all'interno del nucleo familiare anche loro cercavano di non creare ostacoli, è stata una situazione che lascerà un grande ricordo, un grande apporto, un bagaglio anche umano e di sentimenti, oltre a quello che è il dispiacere, purtroppo le situazioni tragiche e drammatiche cui spesso andate incontro. Bene, io vi ringrazio per la vostra disponibilità e chiuderei con un'immagine, con un film che ricordava quando erano scomparsi tutti, diciamo così, una categoria dal mondo come il mondo era cambiato, ecco proviamo a pensare se dovessero scomparire tutti i volontari che ci sono in campo in questo momento ma anche nei momenti quotidiani, quanto sarebbe molto più difficile rispondere a quelle che sono i bisogni della quotidianità. Grazie. Grazie.